A far passare il tram di qua, poi vedi i danni che fanno. Io sono assolutamente contraria, secondo me il modo per agevolare i fiorentini sarebbe intensificare il trasporto, magari tramite bus, in altri modi, permettere di posteggiare. Ben accetta, specialmente in questi tempi non c'è più turismo, magari invoglia il fiorentino a venire un pochino più vicino nei pressi del Duomo e nel centro storico. Non so, dovrei riferetterci, non so se snaturerebbe un po' l'identità, il centro, non so se arriverebbe troppo a ridosso del Duomo. Io sono sfavorevole, la tramvia arriva già alla stazione ed è anche stato fatto uno scempio alla chiesa e francamente non ne vedo l'utilità qui a Palazzo Medici. Verrebbero cancellati i pochi negozi che ci sono in queste vie, perché i lavori che non finiscano mai della tramvia azzererebbero completamente i negozi. Penso comunque sia un servizio in più che è a disposizione dei cittadini. È sufficiente fino alla stazione, l'arrivo della tramvia basta, è decisamente vicino, c'è bisogno di arrivare fino a Piazza Duomo. Se siamo sicuri che non danneggia il Duomo può essere utile per arrivare in centro, però tutelerei il Duomo se è possibile, quindi solo se è sicuro che gli scavi a 200 metri non danneggiano il Duomo.